C'è un paese in Europa che non riesce a fare a meno di barare. È incredibile, bara su tutto. Eppure è l'unico paese che si considera in tutte le occasioni il più bravo, il più operoso, il più diligente, al punto da rimproverare e fare costantemente la morale a tutti gli altri. Bara sulle regole europee, sforando permanentemente e senza punizione alcuna il limite al surplus commerciale. Bara sui limiti europei al finanziamento pubblico e alle imprese, girato per mezzo del KFV. Bara sul rispetto della libera circolazione delle merci, bara sulle emissioni di CO2 e potremmo continuare a lungo. Oggi bara sui dati dei morti da coronavirus. Non riesce proprio a fare a meno di barare, neppure quando è palese al punto da sfiorare ridicolo, neppure nelle situazioni più tragiche e disperate.